Verso la fine di marzo il Consiglio Comunale di Castellalto aveva approvato all'unanimità il progetto e la variante urbanistica per dare il via alla realizzazione dell'opificio della Uforma SRL, un'azienda dell'indotto Fiat che riuscirà a dare una destinazione d'uso all'autoporto in abbandono da più di 25 anni nella zona industriale di Villa Zaccheo. Un autoporto mai nato, un'opera che interessa quasi 14 ettari di terreno usato fino ad oggi soltanto per ospitare un deposito della protezione civile. Siamo a buon punto, la nuova azienda alla quale è stata assegnata una parte dell'area dell'ex ormai possiamo dire autoporto sta per avviare la produzione, in autunno partirà la produzione, loro mi pare che in paranza è sicuro produrranno tre modelli Fiat a partire dalla nuova Giulietta e poi lavoreranno per tante case automobilistiche internazionali quali Mercedes e BMW. Un insediamento su 13 mila metri quadrati dell'autoporto mai nato con l'ambizione di diventare un polo d'eccellenza passando per un investimento da 30 milioni per assumere entro il 2020 70 nuovi addetti quando entrerà a pieno regime. I primi 10 milioni di euro dovrebbero essere investiti entro la fine di quest'anno. L'importante notizia è che in questi giorni, in queste ore si sta discutendo in Regione Abruzzo della destinazione totale di tutta l'area di autoporto a zona produttiva. Questo perché ci sono tantissime, da quando si è aperta questa possibilità e questo spazio di investimento e quindi di impianti, di nuovi impianti, ci sono tantissime altre aziende e di servizi e di produzione che vogliono insediarsi in quest'area che è una zona anche strategica perché c'è uno svincolo della superstrada, della Teramo Mare e c'è soprattutto una vicinanza forte con quella che è l'autostrada e poi speriamo con un bel progetto sul FAS prossimo vediamo di farci arrivare anche il ferro, cioè il trasporto con il treno su rotaia.